Parleremo nell'Accademia, una cosa ve la dico come esempio, la teoria di Montesquieu, la divisione dei poteri, la magistratura faccia la magistratura, il potere legislativo faccia le leggi, dividiamo i poteri per rimanere in una democrazia. Parleremo di contenuti della scuola, del lavoro, di una visione dell'Italia, dei valori, la differenza dei nostri valori e loro. Noi pensiamo prima agli italiani, loro agli stranieri, questa è la differenza di base e parleremo proprio dei nostri valori. Però voglio dirvi una cosa bella dell'Accademia, molto bella, non sarà gestita dal Ministro Azzolina, non sarà lei a gestire l'Accademia della Lega. E un'altra notizia bella, non ci saranno i banchi con le rotelle all'interno dell'Accademia, ma ci sarà formazione, obiettivi, valori per un'Italia che ci porta sicuramente in posti diversi, da come ci vuole portare questo governo. Grazie, forza Matteo Salvini e come ne abbiamo scritto noi ci sono e ci siamo tutti per te Matteo, siamo tutti qui per te. Grazie e forza Sicilia.